Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 8 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i lavori notturni, stanotte in A1 in orario 22.06, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. In contemporanea, chiusi anche i tratti tra Firenze Sud e in Cisareggello, sia in direzione Roma che in direzione Bologna. Per lavori in A1 al viadotto sull'Arno non compatibili con la circolazione dei treni, questo fine settimana, il prossimo e il primo weekend di gennaio, interruzione della tratta ferroviaria e in Poli Firenze, servizio garantito con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!